Buongiorno a tutti amici trader e bentornati a Trading Floor, il nostro appuntamento quotidiano con le analisi tecniche dell'ufficio studio di finanza online, mercato che anche oggi insomma apre un colore in realtà, leggermente negativo, poi si è spostato in positivo, una continuazione della seduta di ieri, diciamo che è un mercato un po' in attesa di news un po' più concrete sul fronte Covid, perché avete sentito peggiorata la situazione negli Stati Uniti, in alcuni stati dopo la riapertura, quindi la fine del lockdown sono riaumentati i casi in maniera anche abbastanza importante in alcuni stati, tra cui la Florida e così anche in Cina, dove appunto Pechino è arrivata praticamente a cancellare tantissimi voli, vuole chiudere le scuole, quindi una situazione da assolutamente monitorare, oltre ovviamente a Brasile e India che continuano a rimanere in uno stato veramente difficile e quindi diciamo un po' da una parte ci sono queste notizie che preoccupano il mercato, perché la paura ovviamente di eventuali ulteriori lockdown che rallenterebbero la ripresa economica, se non addirittura appunto peggiorare di brutto la situazione e contemporaneamente diciamo invece abbiamo visto notizie positive anche sul fronte di nuovi trattamenti contro il Covid che sembrano dare comunque risultati positivi, quindi un mercato un po' in attesa visto anche la corsa che abbiamo visto negli ultimi due mesi e in questo momento oggi diciamo non ci sono grandi spunti, devo dire la verità, come sempre vi ricordo di guardare su Finanza Online, non peggio, trovate sempre le notizie quelle più fresche, quelle più market mover e poi come sempre trovate anche la preapertura di mercato e l'apertura di mercato, in questo caso ad esempio questa è l'apertura di mercato appunto si torna a guardare ai timori per l'epidemia di Covid. Noi oggi ci occupiamo come sempre analisi sul Fuzzimib e poi vediamo due titoli industriali, quindi due ciclici, uno Buzzi Unicem in particolare, secondo me è un titolo assolutamente molto interessante anche perché andrebbe a beneficiare tra i titoli italiani forse quello maggiormente che andrebbe a beneficiare del piano da un trilione di Trump per le infrastrutture, poi vediamo anche Total. Il Fuzzimib oggi si tiene sostanzialmente stabile, lo vedete, lo abbiamo visto anche ieri, siamo tornati su un livello di, dopo un forte calo che c'è stato, un parziale recupero che ha riportato i prezzi sul 50% di Fibonacci del downtrend, quindi 19.820 punti quest'area qui, quindi diciamo di fatto poco sotto i 20.000 punti, da dire che qua insomma ci aspettiamo per tornare con un sentiment positivo al break dei 20.231, quindi il massimo precedente, ecco diciamo un break di questo livello, come sempre occhio alla forza espressa dal mercato perché purtroppo in situazioni di incertezza le bull trap si sprecano e quindi possono esserci pure piccole candele, doji, spinning top che magari ti vanno a chiudere sopra la resistenza per poi magari crollare di nuovo e quindi diciamo ingannarci, ecco perché in questa fase diciamo non è facilissimo distinguere una bull trap da invece una perotà o invece un ritorno di forza, però quello che si può fare è sempre utilizzare gli stop per tutelarsi il più possibile, meglio una piccola perdita che non può magari rimanere in mano della volatilità che ci può danneggiare in maniera molto importante. In caso di superamento dei 20.231 il target è questo, è abbastanza evidente, quindi 21.112, 100, no scusate ve lo dico meglio, 21.155 dove vedete passa anche la media mobile 200 periodi, quello potrebbe essere un target diciamo per l'estate e poi da vedere se ci sarà la forza per superare questo livello perché da un punto di vista statistico quantitativo l'estate di solito non porta mai bene agli indici e ai mercati azionari, quindi potrebbe esserci appunto un ultimo balzo verso questo livello, poi da qui ovviamente veramente pensare di fare adesso le previsioni è fanta finanza, quindi bisogna ragionare livello per livello, step by step. A ribasso diciamo invece appunto già un ritorno sotto i 1974 non mi piacerebbe tantissimo, però lo vedete alla fine la fascia di prezzo che ha tenuto anche in questo ribasso che c'è stato appunto a metà di giugno è quello di 18.481 e poi dei 17.928 dove passa anche la trend realzista, quindi è una fascia di supporto abbastanza importante perché si concentrano livelli psicologici, supporti statici e dinamici, ecco una rottura in forza di questa fascia di prezzo ci darebbe sicuramente un segnale negativo con a quel punto si ribassi probabilmente marcati verso 16.838 e poi a scendere verso i 16.000 punti. Titolo Buzzi Unicem oggi sovraperforma il mercato, in realtà diciamo un po' di sedute che sta sovraperformando il mercato, è venuto giù con violenza appunto la settimana scorsa ma ha già recuperato tutto, questo ci fa capire che è un titolo in questo momento sotto i riflettori, lo è perché chiaramente sarebbe particolarmente beneficiario del piano da un trilione di Trump in America per le infrastrutture, considerate che appunto Buzzi fa il 55% dell'EBDA negli States, quindi insomma una presenza importante e il titolo infatti si è portato sul livello di resistenza, lo vedete insomma molto importante, parliamo praticamente dei 20 Euro dove passa anche la media 200 periodi, qua ci deve essere un break di forza, ho aspettato una chiusura settimanale degna di nota oppure una chiusura anche daily però direi che bisognerebbe anche aspettare forse la rottura dei 20,32 per aver conferma, essendo un livello molto importante vedete qua abbiamo avuto un primo massimo che è andato in per comprato, poi adesso non ci stiamo arrivando, però i volumi sono comunque interessanti, in particolare in questa seduta che è stata quella del 16 di giugno, qui i volumi sono in forte crescita, quindi questo vuol dire che comunque il mercato è molto focalizzato su questo titolo, quindi c'è una rottura praticamente dei 20, abbiamo detto aria 20,3 Euro potrebbe permettere poi un allungo almeno verso i 21,56, quindi un titolo da monitorare, a ribasso invece diciamo questa fascia di prezzo qui dove passa anche la trend realzista, quindi insomma intorno ai 18,17,84 sarebbe invece un livello che se infranto ci darebbe un segnale di debolezza con primo target a 17,1,17 e poi in caso di rottura anche di questo livello cambierebbe un po' il sentiment di mercato e quindi poi si potrebbe scendere verso i 16,15 e 65. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800-01-1122. Total oggi apre in rosso, il titolo evidenzia lo vedete, questo è un grafico settimanale, ve lo zoom un po', ecco vedete qua questo pattern candlestick, qua siamo con un grafico settimanale, è un dark cloud cover, diciamo non è un pattern molto positivo sul titolo ma necessita di conferma, altrimenti non è assolutamente nulla, che cosa significa? Che questa candela settimanale che state vedendo e che informazione dovrebbe andare a chiudere praticamente sotto l'apertura della precedente, cioè quella del appunto 5 di giugno, in tal caso avremmo un pattern che di fatto ci darà quantomeno un po' di ritracciamento, quindi possibile ritorno verso i 30, potrebbe essere anche un pattern di inversione, però insomma quello da vedere anche perché tutto sommato sul petrolio, anche quello che insomma dicono un po' gli esperti e che il peggio dovrebbe essere ormai passato, sempre ovviamente se non dovesse esserci un ritorno di una seconda ondata molto forte di coronavirus a livello globale, quello potrebbe ovviamente schiacciare nuovamente i consumi di petrolio, cosa che abbiamo già visto e quindi potete immaginare anche l'esito. C'è un pattern sul settimanale da fare attenzione, l'importante sarà la chiusura settimanale, attenzione se dovesse chiudere sotto l'apertura della candela verde che vedete long day del 5 di giugno, quindi per capirci l'apertura è a 34,465, se chiudiamo sotto è un brutto segnale e in tal caso potremmo avere ribassi in base a quello che esprimerà il mercato, ma anche verso i 30 euro. A rialzo invece diciamo, lo vedete, qua abbiamo il livello di Fibonacci del 50% del downtrend avviato lo scorso anno a ottobre più o meno e qui abbiamo il 50% a 38,97, quindi insomma abbiamo quest'area dei 40 euro che è molto importante, bisognerà appunto rompere questa fascia di prezzo, cioè 38,97 e 40 euro per mettere poi nel mirino i 43 e 182 euro.